Salve, bentornati! Il mio nome è Gabri Costa, statemi a sentire. In questo videojogo Crash Team Racing Nitro Fueled della Playstation 4 del 2019, ho deciso di fare un video per voi. Ascoltatemi. Vi ricordate quando vi ho fatto vedere le skin dei piloti CTR? Ora in questo video vi farò vedere le skin dei piloti CNK che ci sono in questo jogo. Però sono tutte complete, acquistate nei pitstop e vinte nelle gare. Ci sembra corretto iniziare da Crunch Bandicoot. Crunch diventa ASCII, Rottweiler e Dalmata. Ma diventa anche un robot. Enduro, pilota, malvagio che si vedeva a Crash il dominio sui mutanti. Poi diventa Pilota Binox, Pilota 24 ore e le Crunch Pilota. Però ricordatevi che alcune skin si vincevano nei Gran Premi. Ora passiamo a Crank, lo scimmione azzurro alieno proveniente dal pianeta Terranea. Crank diventa Giungla, Fenicottero, Yeti e Giurassico. State attenti quando c'è Crank, la velocità di Crank è pari solo alla sua astuzia sul circuito. E poi era un boss di Crash Nitro Kart. Ora passiamo al piccolo Norm, il mimo alieno proveniente dal pianeta Fenomena. Non fatevi furviare dalle dimensioni di Norm perché è un vero demonio sul circuito. Guardate le skin del piccolo Norm. Diventa un golfista, kabuki, bandito e goblin. Ma ricordatevi che il piccolo Norm non parla e poi non ama gareggiare e odia perdere. Ora passiamo subito al suo gemello, il grosso Norm. Che anche lui ha le sue skin, però il grosso Norm parla e preferisce essere sportivo. Quando c'è una gara, ripete sempre, partecipo anch'io. Il grosso Norm diventa un bandito, un golfista, un kabuki e un orco. Adesso si passa a Nash, lo squalo cibernetico proveniente dal pianeta Barin. Nash è stato progettato per muoversi sempre. Non si ferma mai e nemmeno dorme. Nash diventa un orca, un maimai, e un pesce pagliaccio. Ma diventa anche una palla di cannone e artico. Ora passiamo a questo personaggio con la testa d'uovo, Entrans. Entrans diventa verde, giallo e bianco. Poi diventa salvagente, burattino, amti e amti di cioccolato. Ora vi farò vedere le skin del vero velo. Il vero velo diventa turchese, giallo e rosso. E poi si veste da gnomo. Ora passiamo a Giri, il robot proveniente dal pianeta Tecni, l'apoteosi della robotica. E poi Giri si diverte tantissimo a pulire. Giri diventa tutto blu, verde e bianco. E poi è il robot Binox. Questo è Zam, di Gasmozia. Zam è rosso, viola e giallo. Ma diventa anche un cane, diventa un bulldog. È un cane demoniaco. E ora concludiamo il video facendovi vedere Zem, l'ultimo pilota CNK di questo gioco. Zem ha le sue skin turchese, turchese, violetto, eruzione solare. E poi diventa un punk che gli piace la musica e rock'n'roll. E poi diventa un cavernicolo. come il troglodita, l'uomo dell'età della pietra, o l'uomo delle caverne. Bene, è il momento di salutarci. Se il video vi è piaciuto, potete condividerlo. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto. Ma ricordatevi che trovate qui sotto in descrizione il link del canale Costanza Films. Andateci per favore, ci sono video di mio fratello. Ciao a tutti!